Sono proprio curiosa di vedere la tua nuova casa. Eccola qui! Ma è vuota? Sì, sto cercando i mobili giusti. Lascia pure la giacca sul pavimento. Dai retta a me! Andiamo da Mobili Russo! Da Mobili Russo troverai soluzioni delle migliori marche per arredare con stile la tua casa. Moderno, contemporaneo, arte povera e tante soluzioni per rendere meravigliosi i tuoi ambienti. Da Mobili Russo, inoltre, trovi divani elettrodomestici di libera installazione in un'esposizione di più di 1000 metri quadrati. Mobili Russo è rivenditore ufficiale lube, stilema, colombini, spar. Mobili Russo, la tua casa, il tuo stile. Invia Frank Capra a Bisacquino. Chiamalo 091 830 0238 o vai su mobilirusso.it